I sorrisi di Virtus Francavilla e Monopoli, qualificata al secondo turno, ma anche quello del Fasano, che nonostante la sconfitta ha tenuto testa ad un avversario di categoria superiore. Non hanno deluso le attese e le pugliesi impegnate nel primo turno di Coppa Italia Team inaugurato nella giornata di sabato dal successo della Virtus Francavilla sul Novara nella gara che ha segnato il ritorno dei messapici nel proprio stadio dopo due anni di lavori. La gara, giocata davanti ad una bella cornice di pubblico, è iniziata con il vantaggio dei ragazzi di Trocini, firmato Vasquez. Il pareggio di Belic per il Novara al ventesimo ha rimesso tutto in discussione, fino al gol di Nunziella che ha consegnato alla Virtus l'accesso al secondo turno della competizione, dove ad attenderla ci sarà la Cremonese. Al secondo turno di Coppa accede anche il Monopoli, che ha liquidato agevolmente i Toscani del Ponsacco. La doppietta di Donnarumma e le reti di De Franco e Cuppone, oltre al gol della bandiera ospite firmato Olauale, hanno confezionato il 4-1 che regala alla squadra di Roselli la possibilità di giocarsi un match affascinante come quello contro il Cosenza. Senza dubbio affascinante per il Fasano è stata la sfida di Bolzano con il Sul Tirol. Il 4-2 finale, che ha qualificato al secondo turno gli altoatesini, è arrivato al termine di una gara nella quale i bianco-azzurri di mister la terza hanno saputo ribattere colpo su colpo, trascinati da un grande corvino. All'iniziale, 2-0 del Sul Tirol realizzato da Morosini nel primo tempo, Edoardo Romero ad inizio ripresa ha risposto l'avanti Fasanese che prima ha realizzato il 2-1 e poi ha rimesso nuovamente in partita i suoi con il 3-2 arrivato a 5 dal termine poco dopo il terzo centro dei padroni di casa, siglato da Gerardi. Il gol è 4-2 di Mazzocchi al novantesimo a chiusi giochi, non cancellando però quanto di buono offerto da un bel Fasano. Grazie.